Siamo qua con Filippo Baccherotti, autore di un poker quest'oggi. Partita maschia, partita in stile atletico, come la vedi? Ma è stata una partita difficile contro una buona squadra, ci aspettavamo una partita dura. Siamo riusciti finalmente a vincere in casa, dopo tanto, tre punti importanti e continuiamo così. Bene, e per il futuro quanti aspetti Filippo? Noi puntiamo a vincere il più possibile e poi vedremo dove arriveremo. Benissimo, ti faccio una domanda sul gruppo, su quello che vivi all'interno dell'atletico, come ti sembra? Sempre quello degli anni passati oppure è cambiato qualcosa? Ci stiamo ringiovanendo, piano piano riusciremo a ricreare il gruppo storico che si era creato. Quindi te praticamente sei convinto che comunque anche con gli nuovi inserimenti riuscirete a fare un gruppo atletico anche ringiovanendo e togliendo purtroppo per età i giocatori scorici? Bene, grazie mille Filippo, hai fatto una spiegata partita e niente, io ti voglio ringraziare. Vorrei dedicare la vittoria alla famiglia Tealdi per la perdita del caro Mauro e soprattutto Omar, Nicola e l'ipote Tommaso e la moglie del popolo Mauro. Grazie mille Filippo, grazie.